E' stata definita la nuova giunta comunale qui nel Comune di Atri dopo le ultime elezioni vinte dal neosindaco Pier Giorgio Ferretti che bissa la vittoria del 2018. Lunedì ci sarà il primo consiglio comunale al sindaco Ferretti. Si sono riconfermati l'assessore Domenico Felicione, Macera, c'è la nuova entrata di Federica Rompicapo insieme a Alessandra Giuliani e c'è il ritorno di Gabriele Stolfi. Sì, abbiamo predisposto in maniera veloce l'organigramma della giunta dopo qualche giorno di meritato riposo e poi con qualche problema legato anche a qualche lutto proprio perché c'è necessità di iniziare con rapidità a lavorare per quelle che sono le innumerevoli esigenze della città. Come dicevi il 5 giugno alla sera alle 20 ci sarà il primo consiglio comunale della nuova amministrazione. Sindaco, delega pesante quella legata ai lavori pubblici che viene data possiamo dire a uno dei più esperti ovvero a Stolfi. Sì, i lavori pubblici al primo degli eletti come dicevi a Gabriele Astolfi che ha avuto uno straordinario risultato elettorale con quasi 700 preferenze, insomma oltre 650 preferenze che ritorna ai lavori pubblici. Anche qui c'è tanta necessità come è noto il problema delle manutenzioni e della pulizia che riguarda ovviamente tutti i comuni, in particolare Atri perché è un comune ampio necessita appunto ovviamente di interventi e quindi auspichiamo che il suo ritorno su questa delega anche alla luce delle innumerevoli assunzioni che ci sono stati di operai o comunque di gente su strada ci possa dare una città ancora più bella e ancora più pulita.